scampo se uno è bello perché non dovrebbe sfruttare la sua bellezza uomo con i peli o contrario tutti e due adesso devo scegliere qualcuno moderatore 250.000 dollari e allora non lo compro l'onore l'onore ma senti ok sono più ducati ecco le tue mie le da è due mia she's not in the desert city, she's in a pool, I'm boat my hair, this is weird